Sono state assegnate le deleghe ai sei assessori della quarta giunta manganella. Con propria determinazione del 28 ottobre 2014, il sindaco conferisce nuovamente la carica di vice sindaco alla dottoressa Carmela Vita, che tornerà ad occuparsi di bilancio, finanze, tributo, controllo di gestione, provveditorato ed economato, gestione amministrativa del patrimonio, affari generali, affari legali e contratti, contenzioso e programmazione. Enzo Agrò si occuperà di piano particolareggiato e politica per il centro storico, pianificazione urbanistica e generale ed esecutiva del PRG, infrastrutture edilizia pubblica, ciclo integrato dei rifiuti, sportello unico per le attività produttive, formazione, gestione piscina e palazzetto dello sport, politiche comunitarie ed energetiche, progetti strategici per la città, turismo, scambi internazionali, comunicazione ed Expo 2015. Saracchianetta si dovrà occupare invece di istruzione e politiche educative, servizi per l'infanzia, asili nido, mense scolastiche, cultura e iniziative culturali, biblioteca comunale, fondo antico Barone Mendola, museo ornitologico, spettacolo, politiche per la famiglia, pari opportunità, politiche per l'emigrazione e l'immigrazione, rapporti con le associazioni, volontariato, con la consulta pastorale cittadina e la comunità ecclesiale, rapporti con il consiglio comunale. A Davide e Lumia vanno le deleghe all'igiene ambientale e sanità, verde pubblico, piano e arredo urbano, agricoltura, fiere e mercati, politiche per lo sviluppo economico e per il lavoro, commercio e artigianato, sport, rapporto con le associazioni sportive, politiche giovanili, rapporti con la consulta giovanile, ufficio relazioni con il pubblico, partecipazione democratica, Castello Chiaramonte, scambi socio-culturali, CED e reti informatiche. All'assessore Diego Sutera vanno i lavori pubblici, edilizia privata, manutenzione stradale, manutenzione patrimonio, manutenzione illuminazione pubblica, servizi cimiteriali, rete idrica, toponomastica, traffico, protezione civile, sicurezza, mobilità, parcheggi, segnaletica, autoparco e attuazione del programma. Infine a Gioacchino Zarbo vanno le deleghe al personale, polizia municipale a Nona, politiche sociali, trasporti di carattere sociali, servizi elettorali e demografici, politiche per la tutela del consumatore e rapporti con le associazioni, servizio affissioni, società partecipate e relativa rappresentanza e spending review. Adesso che i sei assessori hanno ricevuto le proprie deleghe, auguriamo loro di poter lavorare nel solo ed esclusivo interesse della collettività e risolvere ognuno per le proprie competenze gli innumerevoli problemi che insistono in città.